partito ragazzi iniziamo con un bel brindisi il mio amico oscar sono contentissimo di essere qua con lui stavamo parlando adesso ed oscar quant'è che ci conosciamo e lavoriamo insieme 5 6 7 anni ma in realtà no sono belle che 12 12 anni ragazzi 12 anni ma quando ci si diverte tempo vola dicono così è vero così siamo cresciuti insieme professionalmente io iniziato ero nessuno lo sono ancora adesso però comunque ci siamo fatti un'esperienza insieme siamo cresciuti insieme siamo diventati qualcosa un po più maturi diciamo così che dice della giornata no l'interessante giustamente il primo giro è sempre quello di andare a salutare gli amici come le bottosse in altri stand e come come diciamo noi in azienda stiamo sul pezzo quindi veniamo a vedere quello che sono le novità magari dobbiamo anche a modernare il parco macchine quindi qualche prova e questo è il posto giusto sicuramente tra tutte le fiere veramente un bel posto dove trovarsi dove trovare poi una bella giornata ciao sono adottato un altro amico sì anche perché ormai lo sai io sono sempre in negozio a fare niente no io dico così però poi chi c'è fuori fanno i timidi fanno i timidi sono dietro la telecamera ma fanno i timidi buongiorno a tutti eccoli qua questa è una grande squadra ma al servizio bottosse si settarsi si può fare una piccola zoomata nei piedi sui piedi no levatevi una scarpa non c'è ancora scritto come dice la super to berg cercare sempre la soluzione ancora grazie di stare qui con noi è un brindisi diciamo al prossimo anno la ragazza per finire viva questa parte del video dove siamo tutti ragazzi anche tu dai vai grande ragazzi grandi raga